allora eccoci di nuovo qui di nuovo buongiorno a tutte e tutti e anche eh chi ci sta seguendo da casa ci scusiamo per il ritardo qualche problemino tecnico siamo eh pronti per inaugurare dunque l'anno accademico del nostro nuovo dottorato in studi di eh traduzione io sarò eh molto breve sono molto contenta di questo dottorato e questa mattina pensavo che un anno fa eravamo in quest'aula eh esattamente un anno fa e inauguravamo il centro eh di via Bandini che è la sede del centro studi sulla traduzione a distanza di un anno un'altra inaugurazione un altro eh traguardo importantissimo con questo nuovo dottorato in studi di traduzione e le due realtà il centro studi e il dottorato sono estremamente collegate e connesse eh insieme io ringrazio molto il rettore Tommaso Montanari Montanari che ha mh eh così eh sostenuto in ogni suo eh passaggio questo eh la la creazione la vera creazione del dottorato eh fino a qui fino a far parte del nostro collegio e oggi inaugurare insieme a noi il dottorato con una sua lezione eh un dottorato che eh come eh sappiamo noi abbiamo qui oggi diamo il benvenuto alle dottorande e ai dottorandi nasce da una collaborazione già avviata con l'altro Ateneo Senese con l'Università eh di Siena eh e a questa collaborazione si aggiunge la collaborazione con un altro Ateneo Toscano l'Università eh di Pisa siamo quindi eh felici di questo viaggio che oramai eh stiamo percorrendo insieme ehm un viaggio che valorizza tantissimo la traduzione eh proprio la parola viaggio serve anche a Nabokov l'intransigente Nabokov per definire la traduzione stessa dice un viaggio eh dal capolino verso la radice quindi verso il basso per poi risalire verso l'alto lungo un nuovo gambo lungo un nuovo ehm e eh fino ad un nuovo capolino quindi questo viaggio è il cammino ormai segnato e eh sono molto contenta di questo viaggio che faremo insieme ehm e eh e niente ringrazio quindi tutti i colleghi e le colleghe che ci hanno accompagnato lungo questo eh percorso. Io prima di lasciare la parola al rettore mh Tommaso Montanari che farà una lezione su tradurre Berlì Bernini anche un po' a riprova di cui la traduzione è da noi intesa in senso giustamente molto ampio eh traduzione non soltanto tra testi letterari ma tra testi appartenenti a diversi sistemi semiotici. Lascio la parola al collega e amico dell'Università di Pisa Marco Sabatini e ricordo che oggi pomeriggio poi la giornata eh di inaugurazione continua con eh la lezione del collega dell'Università eh di Siena per Luigi Pellini che invece farà una lezione su tradurre Zola. Eh quindi Marco a te eh la parola e poi lasciamo eh lo spazio al rettore Tommaso Montanari. Grazie. Grazie, grazie Giulia. Eh beh eh di nuovo noi siamo qui come Università di Pisa a ringraziare naturalmente per il coinvolgimento in questo progetto in cui crediamo molto eh il nostro dipartimento di filologia, letteratura e linguistica eh ha visto aderire eh attraverso diversi docenti eh questo progetto e ringraziamo anche il rettore dell'Università di Pisa che insomma ha voluto accogliere l'invito eh del professor Montanari, il rettore dell'Università stranieri di Siena di eh immaginare questa collaborazione eh tra Atenei e Toscani e mi sembra che sia come inizio già più che promettente visto anche quello che è eh la programmazione. La programmazione che devo dire è molto densa per questo anno accademico eh quasi voglio farlo così di fronte anche alle dottorande e dottorandi eh visto che siamo in una in una prima volta in una fase sperimentale capiamo anche se sia così necessario avere una così densa programmazione vedo tanti incontri organizzati che un po' eh da una parte ci fa capire quanto ci sia da dire da argomentare su sulla traduzione da vari aspetti che sono teorici fino a quelli più pragmatici fino a quelli eh multimediali e interdisciplinari. Eh tuttavia credo che eh alla fine di questo primo anno capiremo anche no quale direzione poi prendere insieme eh anche noi come Ateneo di Pisa quale contributo dare in maniera più programmatica eh quest'anno noi proporremo eh nel mese di febbraio delle lezioni una sarà tenuta da me dedicata appunto al rapporto tra eh l'oralità e il testo scritto tra la traduzione del discorso pubblico no come diventa invece testo scritto in diverse lingue in particolare nel caso russo di Solzhenitsyn e poi anche della collega eh Selena Simonatti che si occupa invece di linguistica e traduzione spagnola eh nonché un convegno che eh dedicato alla poesia, alla traduzione, alla comunicazione eh nell'epoca dei media incentrata su Enzensberger e organizzata dal professor Francesco Rossi. Eh quindi come Ateneo di Pisa e come Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica noi rinnoviamo il nostro impegno, la nostra presenza e siamo qui oggi anche a portare il nostro saluto di inizio di anno accademico alle dottorandi e dottorandi e buona lezione anche ai colleghi eh montanari e pellini che oggi eh apriranno appunto questo ciclo. Grazie. Grazie Marco. Tommaso intanto ehm faccio la presentazione, ok? Del tuo powerpoint. Sì. Vai. Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia, soprattutto buongiorno e benvenuti e benvenute alle dottorande e ai dottorandi e naturalmente saluto tutte le colleghe e i colleghi. Sono davvero molto grato alla professoressa Giulia Marcucci per avermi voluto invitare a tenere questa lezione inaugurale come rettore della sede amministrativa di questo dottorato ma soprattutto come membro di questo collegio e sono molto felice eh che ci siano qua eh collegati in presenza colleghi anche dell'Università di Siena e dell'Università di Pisa perché eh i dottorati sono fra i pochi luoghi in cui la collaborazione fra le università è tale, cioè non è una competizione ma è una vera collaborazione, cioè un luogo in cui si può lavorare insieme dimenticandosi almeno a tratti diciamo di tutto eh il backstage, di tutto quello che sta dietro e che in realtà diciamo è più di quello che sta davanti ormai per come sono messe le cose. Quindi è un diciamo un luogo di liberazione per molti versi. Mi scuso se oggi pomeriggio non riuscirò a starci perché è appunto poi c'è il backstage che preme, mi scuso con con Pierluigi Pellini se non lo posso ascoltare, ero incuriosito dal tuo titolo, volevo capire se c'era un ardito paragone fra Zola e Liliade, chissà di cosa parli, lo capirò, me lo racconterai. La mia scelta di aderire da storico dell'arte, quindi da una posizione eccentrica, da outsider a questo collegio, vuole essere un atto di fede nell'esistenza di un'università non frantumata nei recinti dei settori scientifico disciplinari, dovrebbe da chiamarli serragli più che recinti, e nemmeno dispersa nel vaniloquio della cosiddetta interdisciplinarietà, parola da espungere dai vocabolari. La fede in una università, la fiducia nell'esistenza di un'università in cui sia possibile coltivare la propria disciplina intrecciando continuamente un dialogo, uno scambio con i vicini che fanno altrettanto con la loro. In questo spirito ho scelto di parlare della cosiddetta stampa di traduzione e di farlo accennando al caso di un singolo artista a me particolarmente caro. Ma che cos'è la stampa di traduzione? Ve ne mostro un esempio particolarmente in signo e celebre, la traduzione della Gioconda di Calamatta, con un altrettanto celebre commento di una non qualunque fruitrice, spettatrice di questo lavoro di incisione dalla Gioconda, che durò vent'anni, partendo intorno al 1825 e che rappresentò un momento di coscienza collettiva delle possibilità della traduzione, della stampa di traduzione. Con questa etichetta, che è prevalente ma non è la sola, intendiamo in Italia, e non solo in Italia, alludere alle incisioni che riproducono opere già esistenti in pittura, scultura o architettura. Cioè non la stampa di invenzione in cui l'artista che incide è anche l'autore del disegno, l'autore creativo di un disegno che non ha precedenti. Diciamo subito che non disponiamo in letteratura di uno studio che problematizzi davvero questa definizione, che è una definizione stampa di traduzione meno neutrale e più sfidante del suo equivalente francese, che non per caso è poi preso a prestito in tutte le lingue quando non ci si vuole esporre, da pre, una stampa di derivazione, si dovrebbe dire in italiano. Manca, cioè, uno studio che esplori fino in fondo la densità semantica di questa similitudine con la traduzione testuale, con la traduzione testuale, o anche solo semplicemente provi a ricostruire dettagliatamente la storia dell'espressione. Ci tornerò quando si comincia a dire stampa di traduzione e perché. Il contributo forse più fortunato, se non il più profondo, dedicato al tema è un breve intervento di Giulio Carlo Argan pubblicato nel 1967 in onore di Rudolf Witkover, il valore critico della stampa di traduzione, poche paginette, piuttosto dense. Per non fare che un esempio, è attraverso la fortuna di questo articolo, legata anche alla fortuna della figura dell'autore, personaggio pubblico nella Italia degli anni Sessanta, la questione della traduzione a stampa di testi figurativi entra, appunto, per esempio, in uno dei più fortunati saggi dell'Italia recente sul problema del tradurre, il dire quasi la stessa cosa di Umberto Eco. Dice Eco, si pensi, per esempio, e lo scrive nel capitolo sui casi di variazione di sostanza, alla riproduzione a stampa di un'opera pittorica, dove la tessitura continua della superficie dipinta viene tradotta in termini di retino tipografico. In tali casi non c'era mutazione di materia, perché testo-fonte e testo di destinazione si manifestavano all'interno di un continuum comune che chiameremo grafico-pittorico, segne e tracce su una superficie bidimensionale, e qui Eco poi parte invece a interrogarsi sulla differenza che c'è con le stampe di traduzione dalla scultura e dall'architettura, che occupano lo spazio in modo tridimensionale. In genere, continuava Eco, questi sono casi in cui l'interpretante sembrerebbe dire meno dell'espressione interpretata, c'è per esempio la perdita del colore, ma si potrebbe anche decidere che in qualche modo, in certe litografie o incisioni ottocentesche, per esempio quella che vediamo, diceva di più, perché adattava l'immagine originale ai gusti dei propri destinatari. Nel primo monumentale repertorio di stampe di traduzione, e qui vedete un atelier seicentesco in cui si incide come si fanno le stampe. Questo repertorio si chiama Lo specchio dell'arte italiana, ed è stato costruito da Evelina Borea in quattro volumi stampati nel 2009 per i tipi della Scuola Normale Superiore di Pisa. Prima non c'era un repertorio delle stampe di traduzione italiana. In quest'opera monumentale, Evelina Borea nota che non esiste nella lingua italiana un termine particolare con il quale indicarle, per cui è d'obbligo, per distinguerle da quelle dei painter gravaire, ossia da quelle in cui la mano dell'inventor si identifica con quella dello sculptor, lo sculptor è l'incisore, chiamarle con una specifica, ossia di riproduzione, stampe riproduttive, oppure di traduzione, traduttive, o anche alla francese da pre, che è forse il modo più corretto, perché il più semplice è diretto, è tuttavia poco usato, cui potrebbe corrispondere, in modo meno elegante, anche se ineccepibile, l'espressione stampe derivate. Dopo aver lungamente ragionato sulle alternative, tra cui quella assai attraente fondata nel francese dei conoscitori del secondo ottocento e che oggi ha una certa fortuna di stampa di interpretazione, Borea opta per continuare a chiamare stampe di traduzione, la cito, quelle che derivano dalle pitture, non per analogia con il campo della letteratura, come si è fatto invece nella Francia del Settecento, perché in quel campo, dice Borea, si tratta sempre di parole, parole che cambiano col passaggio di concetti da una lingua ad un'altra, ma sono sempre parole, ma perché l'incisione che intende proporre l'immagine di un dipinto, di una scultura, lo fa anzitutto con un linguaggio diverso, non pittorico, ma plastico, non plastico, ma grafico e comunque, anche se sfumato, sempre in bianco e nero. Inoltre lo fa su un diverso supporto, tramite il passaggio sul rame o sul legno della matrice, per concludersi su un foglio di carta, normalmente di misura inferiore a quello dell'opera originale, che è riprodotta. Dunque, traduzione nel senso letterale di trasferimento di un'immagine, con tutti i valori visibili che la costituiscono, salvo il colore, da un mezzo espressivo a un altro, con la conseguenza che la nuova opera, data dagli artifici del mezzo incisorio, ha rispetto all'originale da cui deriva una piena autonomia formale. È nel Seicento che la stampa di traduzione, che si fa nascere convenzionalmente, ma con buone ragioni, nel Circolo Romano di Raffaello e Marcantonio Raimondi, acquisisce uno status riconosciuto, intrecciandosi a una storiografia artistica ormai ramificata, tradurre in stampe e tradurre in parole, in equivalenti verbali, ad un collezionismo robusto, avere l'immagine in casa, anche se soltanto riprodotta, e soprattutto, ed è quello che forse è il dato più interessante, al crescente attivismo di una opinione pubblica artistica sempre più definita. Il Seicento è il secolo in cui, nella Repubblica d'Elettra, anche i figurativi, gli appassionati, gli intendenti, come si chiamavano nel Seicento, gli arti figurativi, cominciano ad avere un ruolo anche nelle riviste internazionali, il giornale Savan e tante altre riviste. A fine secolo è il cantino Filippo Baldinucci, nel suo cominciamento e progresso dell'arte di intagliare il rame, a celebrare non solo la bellezza, ma l'utilità della stampa, non di invenzione. E dice, fra le arti che hanno per padre il disegno, alcuna forse non venà tolta nell'architettura, pittura e scultura, la quale maggiore diletto ed utilità soglia a recare agli studiosi, che vuol dire coloro che amano, gli amatori, studiosi esattamente il calco italiano di amatori e di francese, e dilettanti di sinnobile facoltà, che è quella dell'intaglio, ossia si in rame oppure in legno per la stampa. Mercè che è questa, l'opere più degne dei valorosi maestri di ogni città e provincia, in ciò che in tali opere e per invenzione e per disegno s'ammira, eccellentemente imitando e contraffacendo, e quelle eziandio a piccola ma godibile proporzione riducendo, rende comunicabili a tutto il mondo. Comunicabili a tutto il mondo. È questa l'ossessione modernissima del Seicento. Sarà invece il veneziano Marco Boschini, che fra tutti gli scrittori d'arte barocchi è quello, diciamo, la Collonghi più perebrante, quello che buca di più, che riesce a appungere, a trafiggere di più il fatto figurativo per tradurlo in parole, a riflettere sul valore non solo documentario, ma propriamente critico del tradurre un quadro in una incisione. Qual è il giudizio critico di una traduzione in incisione? Lo fa nei suoi versi veneziani che io non so leggere in veneziano, le leggo come so. E il redurre in desegno una pittura, l'è giusto lambicar con diligencia e far l'estratto della quinta essenzia, e premere e torchiare ogni figura, e sì come che l'oro se cimenta col fuoco per cognosser se l'è buono. Così la stampa è il vero paragon per vedere se pittura se sostenta. Solo incidendo un quadro, e quindi facendo muovere il torchio, spremendo le figure nella stampa, si capisce se la pittura regge. La traduzione in bianco e nero, la traduzione in grafica è una prova della bontà della pittura, un pensiero singolare, detto da un veneziano, che porta molto più sulla composizione e l'invenzione del disegno, che non sul colore, che è quello che è proprio la stampa. Non riuscire a dare nemmeno l'Ottocento, le litografie colorate saranno un disastro, sarà poi la fotografia a risolvere il problema. Credo risulti chiaro, anche solo da questo accenno, quanto ci sia ancora da riflettere criticamente sulle implicazioni, i limiti, le possibili illuminazioni del tradurre in stampa, del dire tradurre in stampa. E forse un luogo come questo, un dottorato di studi di traduzione, può essere proprio il posto adatto per farlo. Aggiungo soltanto, se permettete prima di passare a Bernini, uno spunto un po' nuovo. La convenzionale data di nascita della metafora della traduzione applicata alla stampa di derivazione è quella del 1775 ed è ancorata a un celebre testo di Charles Nicolas Cochin, che qua vedete. Non si deve, scriveva, guardare gli eccellenti incisori come dei semplici copisti. Sono invece dei traduttori che fanno passare le bellezze di una lingua ricchissima in un'altra che lo è di meno, ma che offre delle difficoltà ed esige delle equivalenze ugualmente ispirate dal genio e dal gusto. Non copisti, ma traduttori. 1775. Da questo momento, anche in italiano, l'espressione risulta fortunatissima, venendo consacrata in tanti luoghi, ne prendo il più triviale, il manuale di Giuseppe Longhi, la calcografia propriamente detta, ossia l'arte di incidere il rame con l'acqua forte, col bulino e con la punta. 1830, un testo che era per le mani di tutte le accademie, di tutti i praticanti praticoni di incisione. E vi si legge, in una parola, la copia è strettamente legata all'originale e nella sostanza e nel modo, ma la traduzione è vincolata alla sostanza ed è libera nel modo. Tant'egli è vero che se io vedrò più copie di un originale a me sconosciuto, in parte o in tutto fra loro dissimili, dirò con certezza che o tutte sono infedeli, o fedele non è che una sola. Ma se riscontrerò differenza in altre traduzioni, non per questo potrò tacciarle d'inesattezza, purché siano equivalenti quanto al disegno e soltanto diverse nel rispettivo artificio. Riconoscere il traduttore. Credo che uno scandaglio più attento della letteratura artistica dell'Italia seicentesca potrebbe riservare qualche sorpresa interessante. Cioè penso che si possa retrocedere al 600 italiano, dal 700 francese, dal tardo 700 francese, l'avvio dell'uso della metafora, della traduzione per indicare una classe di incisioni. Questo è il testo più influente, diciamo, del 600 storiografico artistico, Le vite del Bellori, che vedete in un bel ritratto dipinto da Carlo Maratta, appartenuto a Giuliano Briganti nel 900. Oltre a vari indizi sparsi, con cui non vi voglio tediare, ma prima o poi spero di tirarli fuori tutti, a farlo credere è un bel passo proprio delle vite del Bellori, in cui si legge che, cito, con questa occasione Antonio, siamo nella vita di Van Dijk, nell'età sua tenera si pose da se stesso a disegnare e la madre persuase il padre ad accomodarlo con Rubens, il quale, amando i buoni costumi e la grazia del giovinetto nel disegnare, gli parve gran ventura di aver trovato un allievo a suo modo, che sapesse tradurre in disegno le sue invenzioni per farle intagliare al bulino. È un brano nascosto in bella vista, questo è il Battaglia, è il Battaglia, né alla voce traduzione, ma con una accezione, secondo me è completamente sbagliata, non sviluppare un bozzetto, un modello preparatorio in una creazione scultoria o pittorica, ma invece proprio tradurre da un'opera a una stampa, attraverso il vero passaggio traduttivo, che non è quello dell'incisione, ma è quello della realizzazione del disegno preparatorio all'incisione e che deriva dal quadro, quella è la traduzione. L'incisione poi è un altro fatto, ma la traduzione vera è quella di cui si parla, tradurre in disegno le sue invenzioni per farle intagliare al bulino, perché non era Van Dijk che si sporcava le mani sulla lastra di rame, ma era lui che faceva il disegno, il traduttore era lui, anche se poi ci sarebbe dovuto volere anche la firma dello sculptor, quindi Rubens in Venit, Antonius Van Dicchius dell'Ineavit e qualcun altro, Sculpsit, così troveremmo nelle stampe, anche se poi esattamente come per i traduttori di oggi, i meriti dei traduttori sono assai spesso, poco spesso riconosciuti. Ora, il passaggio belloriano appare assai interessante, non solo per la priorità cronologica dell'uso della metafora della traduzione, ma anche perché applica quest'ultima in particolare appunto al passaggio preliminare, quello del disegno. Un brano che va letto insieme a un passo celebre dell'indirizzo al lettore premesso alle vite, dove Bellori, cioè appunto il più importante scrittore d'arte del Seicento italiano, dà conto della più innovativa singolarità della sua opera, e cioè che nelle vite del Bellori per la prima volta ci sono delle lunghe descrizioni verbali di opere d'arte, queste ex frases lunghissime. Un'idea che viene probabilmente a Bellori dalla frequentazione di Domenichino, il suo maestro in pittura, Bellori aveva provato a dipingere con scarsi risultati e si era dato alla parola. Domenichino, il quale, dice Bellori, aveva in uso incontrandosi nelle opere dei grandi uomini, cioè quando si sarà di fronte a qualche quadro importante, di fermarsi e vederne una o due per volta, alle quali si affissava lungamente leggendole, leggendo i quadri e commentandole, sì che se le imprimeva nella mente, guarda un po', se le imprimeva, cioè se le stampava nella mente, faceva un equivalente e se lo stampava in testa. Domenichino suggerisce Bellori, si stampa in mente le opere che vede e cioè ne esegue mentali stampe di traduzione. Quanto a Bellori, la complessità dei suoi testi ecfrastici non rende pensabile che gli scrivesse o li abbozzasse nelle chiese fredde o a casa di illustri collezionisti. Si deve pensare a un tavolino ricco di materiali, fra cui anche le stampe di traduzione, che assolvevano allo stesso compito per cui oggi esistono le fotografie. Ma egli rimane sempre fedele all'opera originale, è rarissimo, è stato dimostrato, sono le volte che per esempio descrive le opere in controparte, che è uno dei possibili conseguenze della stampa, se non si è curato molto il processo. Egli rimane fedele all'originale e scrive, è pessima cosa il ricorrere all'aiuto del proprio ingegno e l'aggiungere alle figure quei sensi e quelle passioni che in esse non sono, con divertirle e disturbarle dagli originali. A questa prassi disinvolta e diffusissima viene opposta una visione apparentemente minimalista della descrizione. Mi sono però contenuto nelle parti di semplice traduttore. Guarda, un po' di semplice traduttore. Qualche anno fa una studiosa americana ha suggerito che questa parola alludesse non solo alla traduzione dal linguaggio delle immagini al linguaggio delle parole, ma precisamente alla stampa di traduzione, cioè alla riproduzione a stampa di opere d'aspe altrui. Ma diceva però nella vita non ci sono altre occorrenze di tradurre, e invece c'è nella vita di Van Dijk, che rende la cosa più interessante. L'oggettività pur così problematica della riproduzione a stampa è l'ideale che guida la descrizione di Bellori. A riprova si può citare il fatto che quando egli si trova ad accompagnare con un suo testo alcune stampe di traduzione, da Raffaello, da Annibale Carracci, da Albani, dalle opere antiche, cioè Jacopo Tavoli, i grandi atlanti antiquari di Bellori, Bellori riduce il suo testo a una didascalia, meglio se inversi, meglio se inversi latini, lasciando letteralmente che sia l'immagine a parlare. Non descrive, semmai fa un convento, diciamo, più possibile ermetico, ma vuole che parli l'immagine. Attento lettore di Leonardo, Bellori è convinto non solo della irriducibilità della virtù visiva a quella dell'udito, ma anche quindi della pittura alla scrittura, ma anche della sua superiorità. L'idea dell'eloquenza scrive, cede tanto all'idea della pittura quanto la vista è più efficace delle parole. È stata ampiamente sottolineata la consapevolezza che Bellori aveva della tensione che divaricava i due elementi dell'ut-pictura-poesis e quindi dei limiti intrinseci al genere ecfrastico. Nel farché, cioè nel descrivere le opere, ho sempre dubitato di riuscire minuto nella molteplicità dei particolari, con pericolo di oscurità e di fastidio, avendo la pittura e il suo diletto nella vista, che non partecipa, se non poco, nell'udito. Ricorderete forse un passo famoso di Leonardo, che se la prende con i poeti di battaglia vinti dal pittore di battaglia, che è capace di rappresentarla sinteticamente, quanto invece, dice Leonardo, è noiosissimo leggere versi che descrivano un'azione puntuale, perché la svolgono in un tempo insopportabile alla lettura. Annibale Carracci, dice Bellori, di fronte alla battaglia di Costantino di Giulio Romano, non commentò, ma che cosa fece? Proruppe e cominciò a raccontare, a recitare i primi versi del Tasso, canto l'armi pietose e il capitano. Questo è un grande artista, Annibale, che diceva che gli artisti devono parlare con le mani, di fronte a una battaglia di Giulio Romano, si cita Tasso, non si descrive l'immagine. Le descrizioni del Bellori non affondano le loro radici nella letteratura e nell'erudizione o nella presunzione di ridurre le opere figurative all'argomento o all'istoria, ma nascono dallo stesso circuito di interesse, di speramentazione e di dubbi fecondi che aveva opere come La Caccia di Diana del Domenichino, che è una complessa meditazione sulla possibilità di rappresentare il tempo nella pittura, come si fa nell'arte dello spazio a rappresentare il prima e il dopo. E questo è un quadro dipinto per questo e commentato per questo. Scrivendo la magistrale traduzione in parole di questo quadro, Bellori partecipa a un discorso già ampiamente avviato e coerentemente la conclusione rinvia alla visione, tacendo, adoperiamo lo sguardo solo ed ammiriamo l'immagine. Ammirare l'immagine dunque, ammirarne la traduzione se si è lontani. Il 12 giugno 1651 l'inaugurazione della Fontana dei Fiumi amplifica in misura inaudita la fama di Gian Lorenzo Bernini. A Roma gli avvisi e i diaristi registrano la reazione generale in termini di entusiasmo iperbolico, mentre le lettere che partivano alla volta di tutta Europa si sforzavano di dare un'idea del monumento a coloro che non potevano vederlo. Dalla Svezia la giovane regina Cristina, che verrà poi a Roma, scrive al suo amico Paolo Giordano Orsini, ditemi se il cavalier Bernini riposa dopo aver finito con questa bella fontana e se va meditando qualcosa di nuovo. Vuol dire che Cristina era stata ampiamente informata sulla fontana e su Bernini. Con ben altra consapevolezza e con non poca nostalgia il senese Fabio Chigi, al loro annunzio in Germania, dovette leggere questa bella lettera scrittali dall'amico Francesco degli Albilsi il 10 giugno 1651. Qui godiamo la pace d'Ottaviano. Sull'obelisco c'è una colomba con l'olivo nel becco, simbolo dei panfili del Papa Innocenzo X. E non si attende ad altro che all'abbellimento della città. Fra pochi dì scoprirassi la superba fontana di Piazza Navona. Veramente ella è un miracolo del mondo. Sopra uno scoglio spezzato surge l'obelisco Panfilio e sugli angoli dello scoglio vi sono scolpiti quattro superbi colossi di marmo che rappresentano i fiumi principali delle quattro parti del mondo. Dall'artista, che è il cavalier Bernino, sono stati così bene adornati dei frutti, delle piante, dei metalli, degli animali che producono questi terreni da che essi sono bagnati, che non si può bramare da vantaggio. L'occhio vi si perde per maraviglia e bisogna ritornare più volte a vagheggiarla. Due opere memorande avrà egli fatto, l'una sacra e l'altra profana. E veramente tale è la prima delle colonne che sostengono il baldacchino che ricopre la confessione di San Pietro. La profana è questa fonte che supera i più belli edifici dell'antichità. Fabio Chigi, futuro Papa Alessandro VII, non si fece incantare da tutte queste chiacchiere e gli rispose seccamente. Vostra signoria illustrissima ci mandi almeno la stampa del superbo obelisco perché da lontano ne vagheggiamo la figura. Pochi giorni più tardi, la conservazione dei carteggi dell'Italia seicentesca aiuta a ricostruire le dinamiche di questa repubblica literaria figurativa, orientata al figurativo. Francesco Albani, pittore di una certa fama, riceve a Bologna anche lui notizie sulla fontana di Bernini. E commenta un'incisione che ha ricevuto. Contro mia volontà mi son ridotto al tardi a dar risposta alla lettera sua che mi è stata gratissima per essersi di più da me conseguita la promessa del mandarmi il disegno della nuova guglia e di più la giunta composizione sopra lo sfratto della piazza. Con stupore ho ammirato l'opera dello scultore più il leggere che in disegno. Cioè era meglio la descrizione verbale in versi che non la stampa. Perché se quella guglia, l'obelisco che giaceva in più pezzi nel circolo, cioè nel circo vicino a San Sebastiano, mi si rappresenta come una colonna da lettiera, cioè come una colonna a baldacchino di letto, non sembra un grande obelisco egiziano. E forse era più grande a causa della colomba postavi in cima che viene a sembrarmi una colomba grande come una bufala. Albani prende in giro il povero incisore. Ora mi arriva un nuovo disegno, finalmente, e lo guarderò con più comodità. La prego di ricevere i saluti, scrive a questo suo interrogatore romano, del signor Giovanni Maria Galli, detto il Bibbiena, il grande scenografo, autore di teatri, che era con lui a guardarsi avvitamente queste stampe che arrivano da Roma e che dovevano far vedere questo miracolo del mondo. Allora, è una minima rassegna presa a caso, e potremmo stare qui ora perché gli archivi seicenteschi, come dire, conservano molto più di quanto possiamo studiare. Una delle cose che si capisce è che il problema non è trovare il documento inedito, è avere il tempo di interpretarlo seriamente, anche se invece diciamo nei nostri studi gli archivi tendono a trasformarsi in biblioteche in scale uno a uno senza che nessuno, diciamo, interpreti. Comunque, questa piccola rassegna spinge, cioè permette di capire un po' la fenomenologia della ricezione a distanza di opere d'arte di questo livello della metà del Seicento. Una comunicazione veloce e precisa era diventata essenziale e si usavano i collaudati canali della corrispondenza, spesso della corrispondenza diplomatica, per infilare in questi cannelli, in questi tubi, in questi di plichi sia fogli, descrizioni verbali, sia i fogli delle stampe. Naturalmente su questo Paul Valery ha scritto una pagina celeberrima, la scrittura con l'inchiostro sulla pagina e l'imprimersi della stampa con l'inchiostro sulla pagina bianca svelano una serie di rapporti e di parentele evidenti su cui da secoli ci si trastulla. Oltre che negli inventari e nei diari di viaggio, l'abitudine a scrivere e a leggere descrizioni di opere d'arte, proprio nei carteggi, ha una palestra formidabile. E negli stessi carteggi si sviluppa a dismisura il commercio di quella che possiamo chiamare l'ecfrasigrafica, cioè la traduzione. I disegni e soprattutto le stampe cominciano a popolare le biblioteche e i gabinetti, Luigi Lanzi nel secolo successivo dirà che il Settecento è il secolo del rame, dell'incisione, ma lo è scherzando anche sul fatto che non era proprio un secolo d'oro. Il Seicento è già un secolo del rame. Sappiamo che gli artisti stessi dell'originale erano molto attenti a questo. Nell'enorme fascio di pagamenti per la fontana dei fiumi sappiamo che Bernini pagò un pittore che ritraesse la fontana con sette disegni in sette vedute. A che serviva? A una suite di incisioni che non abbiamo però. E conosciamo bene l'attenzione con cui sorvegliò l'esecuzione delle stampe e anche delle medaglie, ma qui ci porterebbe lontano, che propagavano in tutta Europa l'immagine, un'immagine, delle sue imprese architettoniche e urbanistiche. Un'altra delle varie stampe che abbiamo di piazza Navona. Eppure Bernini non fu tradotto quanto potremmo aspettarci. Lo ha documentato nel 2019 Benedetta Ciuffa nel primo corpus della fortuna grafica dell'artista entro il 1750 e la cito con particolare piacere perché questo libro traduce a sua volta una tesi di dottorato fatta a Roma Tolvergata di cui ero tutor. Le ragioni della relativa sfortuna di Bernini sono numerose e complesse. Basti dire che in parte sono legate alla difficoltà di tradurre la scultura, arte dello spazio, nelle due dimensioni della lastra di rame e del foglio. Accanto a questo contava una certa resistenza del ceto intellettuale europeo, che monopolizzava i libri e con i libri anche le stampe, verso lo stile nuovo di Bernini. E poi un'obiettiva difficoltà nel restituire quello stile mosso e spumeggiante nell'incisione, il che riduceva questa difficoltà l'interesse del pubblico più ridotto ma molto agguerrito degli artisti, quelli che volevano vedere lo stile di Bernini, per quanto appunto però si potesse vedere dalle incisioni. Naturalmente, lo dico solo corsivamente, Bernini è stato anche un grande inventore di stampe, non di traduzione ma di invenzione. Questo è il ritratto dell'edizione papale in tutti i sensi, dei versi di Urbano Latini, di Urbano VIII, di Maffaeo Barberini divenuto Papa. Questa è un'invenzione di Bernini. Questo è il frontespizio delle prediche del padre Oliva, generale della compagnia di Gesù, detto nel Palazzo Apostolico, ma ce ne sono molte altre, molte altre, un certo numero. Ma qui parliamo delle stampe da Bernini e come mostra questo schema della Benedetta Ciuffa, in cui ci sono i numeri assoluti di stampe tratte dai vari generi della produzione berniniana, vediamo che Bernini non è stato appunto particolarmente tradotto, molto meno dei pittori del suo tempo. I monumenti più tradotti in incisione sono stati la Fontana dei Fiumi e i tre grandi monumenti vaticani, il Portico di San Pietro, il Baldacchino e la Cattedra. E questi tre si imponevano soprattutto per la loro funzione, così legata all'universalità del papato, naturalmente. Questa è una delle stampe dalla Cattedra. Una delle poche eccezioni è rappresentata da questa stampa, realizzata dall'ottantenne Claude Mellan, uno dei più belli incisori del Seicento europeo, per il frontespizio e la conclusione del Panegirico di Santa Teresa, pubblicato nel 1678 a Parigi dall'abate Pierre Cureau de la Chambre. Questi aveva conosciuto Bernini a Parigi nel 1665, Bernini va a Parigi per costruire l'ouvre, sarà uno scacco epico, tornerà in Italia, avendo lasciato solo il busto del re, ma è il momento in cui diciamo Parigi si sostituisce a Roma nel ruolo di capitale culturale figurativa d'Europa, per semplificare. Quando Bernini con le pive nel sacco se ne torna a Roma, nella carrozza che lo porta a Roma ospita questo giovane monsù francese, questo monsù abbate che dice Bernini mi è riuscito garbatissimo anche se parla troppo. Rimane a Roma a vivere per diversi anni, frequenta Bernini molto familiarmente e se ne ritorna in Francia con una serie di opere di Bernini molto interessante. I due, quando Pierre torna in Francia, si scrivono e queste replichi, come si chiamavano allora queste buste che viaggiavano fra Roma a Parigi, condussero probabilmente all'abate della Chambre un disegno originale di Bernini, perché questa incisione di Mellan che a Roma non torna più, era stato a Roma da giovane, sembra proprio effettuata, deve essere stata effettuata su un disegno giunto da Roma, eseguito davanti all'opera. Ma il punto di vista, l'enfasi che viene accordata alla riproduzione del panneggio di Santa Teresa, questa specie di mare in tempesta di panni, come la chiamerà Standal qualche tempo dopo, fa pensare che impone al vecchio Mellan, che pure era un genio dell'incisione, non poche difficoltà, non è un capolavoro esattamente, tutto questo fa pensare che dietro non ci fosse un disegno qualunque, ma un disegno di Bernini stesso. Io l'avevo proposto e poi Benedetta Ciuffa, nella sua tesi dottorato, ha trovato questa stampa inedita, non si può dire che una stampa sia inedita, questa stampa sconosciuta, diciamo, fino a quel momento, c'è in pochissimi esemplari, fino ad ora se ne conoscono due. Una stampa che reca in esergo l'avvertenza che sia stata tratta da un disegno del Cavalier Mermini, più scolastica di quella di Mellan, proprio per questo essa aderisce maggiormente all'originale. Il panneggio di Teresa, così spettacolarmente trafitto, è restituito con un impegno ignoto a tutte le altre stampe di Bernini. Forse è un caso di un Bernini che traduce Bernini. Come si vede, è un ambito in cui le domande superano ancora le risposte, per questo anche ho scelto questo tema all'inizio di un corso, perché c'è moltissimo da studiare su queste cose. In ogni caso, la cerchia di Gian Lorenzo, che qui vedete ritratto in incisione da un quadro di Gaulli, ed è il frontespizio della vita che gli dedica Filippo Baldinucci nel 1681, un po' andando dopo la morte. La cerchia di Gian Lorenzo aveva ben chiaro il problema della visibilità del corpus dell'artista per chi viveva lontano da Roma, perché Bernini è un artista ancorato alla dimensione monumentale e nel centro della sua produzione è romana. Se non vai a Roma non vedi Bernini. Nel 1674, Bernini muore nell'80, vecchio, 82enne, l'enorme diario manoscritto dell'avvocato Carlo Cartari, che ci ha conservato, queste effemeridi in cui questo grafomane racconta tutto quello che fa, registra una cruciale conversazione fra Carlo Cartari e Monsignor Pierfilippo Bernini, che era il primo genito di Gian Lorenzo. Gian Lorenzo sognava di avere un figlio cardinale, non ci riesce, gli altri fa sposare con nobili donne o con nobili uomini, il primo lo fa Monsignore e diventerà un prelato di un certo peso in corte di Roma e soprattutto diventerà il regista di quella che ho altrove definito l'officina storiografica berniniana. Gian Lorenzo vecchio è particolarmente interessante perché mette lui su tutta la storiografia che lo riguarda, detta le sue memorie, orienta la stampa delle vite, è il grande regista che rende molto complicato prendere in mano questi testi e capire che cosa sono, in parte sono autobiografie. Cosa leggiamo nel diario? L'Itre di Gennaro 1674 mi disse Monsignor Bernini che gli voleva comporre e stampare la vita del padre, benissimo, e fare intagliare in rame tutte le statue fatte dall'istesso padre che passano il numero di 70 con le spiegazioni e che in questo libro avrebbe speso da 8.000 scudi in su, ma pensava di non pubblicarlo vivendo il detto suo padre, ora in età di 76 anni. Aspettava che il padre morisse per la bannale ragione che era un'operazione diciamo ageografica, i santi si fanno dopo la morte, bisognava avere tutta l'opera di Bernini, questo continuava a lavorare e bisognava avere anche i soldi del padre a disposizione perché 8.000 scudi non erano pochi e Bernini era uno degli uomini più ricchi d'Europa a quel punto, ma l'idea strepitosa che non si farà e che non ha equivalenti nella letteratura artistica seicentesca è fare un libro illustrato in cui la biografia abbia anche una traduzione, traduzione in parola, traduzione in stampa. Anche l'abate della Chambre fu coinvolto nell'impresa biografica a modo suo e dalla Francia in maniera un po' di fronda rispetto agli italiani. Alla fine del 1684, morto Gian Lorenzo da quattro anni, il suo lavoro, parallelo a quello italiano e in parte in polemica con quello italiano, era maturo per essere presentato nel luogo più prestigioso e visibile di Francia. Il 2 gennaio dell'anno seguente un discorso di Racine, dedicato all'appena scomparso Cornelio, accoglievra fra i membri dell'Accademie il fratello di Cornelio. Nella stessa seduta memorabile il povero della Chambre si fece coraggio, fracotanto senno, prese la parola e declamò la sua prefasse pur servire all'istuar della vie des ouvrages del cavalier Bernini. Poco dopo la pubblicò in questo opuscolo che riproponeva anche il ritratto di Bernini giovane, piuttosto diverso che dal vecchio, inciso da Ottavio Leoni in clima caravaggesco nel 1622, che dimostra che la Chambre aveva trovato il rame originale di questa stampa e l'aveva fatto, aveva ottenuto di tirarne delle copie da mettere nel suo libro, quindi è un palinsesto di stampe di diversi momenti del Seicento e soprattutto, scusate, questa vignetta commissionata a un grande incisore, Sébastien Leclerc. Questa vignetta fornisce, seppur compendiariamente, una quantità notevole di informazioni visive su alcune opere capitali di Gian Lorenzo. Al centro di questa trasposizione allegorica dello studio dell'artista, la personificazione della scultura dà gli ultimi colpi di scalpello a un busto ritratto dello stesso Bernini, probabilmente questo, conservato a Filadelfia, che è difficile attribuire ma che esce dalla bottega del Bernini Tardo e che forse ha a che fare con questo disegno di Ludovico Gimignani, un artista della cerchia, per una tomba di Bernini monumentale, che poi non fu fatta. Gli ultimi anni di questo vecchio patriarca, che era molto patriarcale, che che ne direbbe il ministro Valditara, era un uomo piuttosto patriarcale da tutti i punti di vista, immagina anche la sua tomba, probabilmente commissiona il suo busto di marmo, cosa inaudita, un busto di marmo di un artista in vita. In qualche modo la vignetta di La Chambra traduce in incisione tutto questo clima. A destra l'architettura sfoglia delle cartelle in cui si vedono la scalaregia vaticana, quella che ancora oggi gli ambasciatori percorrono per andare dal Papa, il baldacchino di San Pietro, la geometria gira il compasso su un foglio, la pittura lavora a un singolare ovale di soggetto apparentemente mitologico. Le due grandi finestre dello studio, perché questo è lo studio di Bernini e l'atelier, si aprono idealmente sul colonnato di San Pietro e sulla fontana dei fiumi di piazza Navona, mentre a sinistra spicca un'unica scultura di Bernini, quel Luigi XIV a cavallo che lo stesso La Chambre aveva condotto in Francia e che è l'ultima figura monumentale in marmo uscita dalle mani del vecchio artista ed è l'opera che ne segnò la più clamorosa, sconfitta. Non abbiamo il tempo, e vado verso la chiusura, per ripercorrere la vicenda, ma bisogna almeno ricordare che le biografie, tutte e due, quella di Filippo Baldinucci ma anche quella di Domenico Bernini che esce dopo, escono queste due biografie, tutte e due originano dallo stesso brogliaccio elaborato in casa Bernini, una pubblicata a nome di Filippo Baldinucci, questo insigne Fiorentino, Kruskant, segretario del Cardinal Leopoldo, che ha scritto Il Cominciamento e Progresso dell'arte in Italia del Rama, per esempio, e una pubblicata da Domenico Bernini, uno degli altri figli di Gian Lorenzo, nel 1731. Le due vite hanno un complesso rapporto testuale, ma entrambe concordano nel raccontare il dialogo che Bernini vecchio intrattiene nel suo studio con una serie di visitatori che arrivano a Roma da tutta Europa. Si sviluppa una querella che lo oppone alla corte di Francia. Il re di Francia, informato dai suoi ambasciatori e agenti romani sulla statua, non la vuole fare venire a Parigi, perché dicono che non gli somiglia. In realtà erano passati anni, vent'anni, il re sole era invecchiato, non era più il re sole del 1665, il gusto era cambiato. La statua è la grande croce della vecchiaia di Bernini, viene abbandonata a Roma ben oltre la sua morte. Bernini muore con la statua che rimane nello studio e nessuno se la prende. Solo dopo andrà in Francia. La cosa interessante è che andrà in Francia, dove il re sole la farà sfigurare, la trasforma in un marco curzio che si getta nella voragine. Sotto c'erano delle bandiere, era il re sole su un campo di battaglia, quelle diventano delle fiamme. Girardon, questo grande scultore, viene incaricato, a proposito di contestazione delle statue, di cambiarle la faccia, che non è più quella del re, ma è quella di un marco curzio, di un eroe romano generico. Cioè una, come dire, una brutale revisione dell'opera che la rende collocabile a Versailles. Questo è l'originale, oggi nell'Orangerie di Versailles. Gian Lorenzo, nelle vite, agendo nello studio che qui la sciambre in qualche modo traduce, visionariamente, si difende. E le vite ce lo raccontano, vi leggo solo un piccolo brano. A un altro visitatore, che passava con lui maggior confidenza, nel dir che gli fece essere i panneggiamenti del re e i crindi del cavallo come troppo ripiegati e trafitti, fuori di quella regola che hanno a noi lasciata gli antichi scultori, l'accusa Bernini, troppo barocco, troppo libero, troppo Bernini, liberamente rispose, questo che da lui gli veniva imputato per difetto, essere il pregio maggiore del suo scalpello, con cui vinto aveva la difficoltà di rendere il marmo pieghevole come la cera e aver conciò saputo accoppiare in un certo modo insieme la pittura e la scultura, che è il grande sogno berniniano. E il non aver ciò fatto gli antichi, esser forse provenuto dal non aver loro dato il cuore di rendere i sassi così obbedienti alla mano, come se stati fossero di pasta. Nella che è il Bernini, come ha sempre fatto fin da giovane, prende risolutamente il posto dei moderni, cioè il suo. Nel saggio che ho dedicato alla libertà di Bernini, uscito da Einaudi nel 2016, ho cercato di individuare e seguire alcuni fili, il motivo dello sculptor in fabula, cioè l'inclusione dell'artista nelle sue opere, la spettacolarizzazione del lavoro artistico come atto performativo, la trasformazione dello studio in un luogo pubblico in cui l'artista esercita la propria sovranità, il ribaltamento del rapporto classico, per cui è il mecenate a giudicare l'artista, in un'inedita situazione in cui l'artista non solo giudica il mecenate, ma lo mette in ridicolo e impone all'opinione pubblica il suo punto di vista. Un'opinione pubblica che per essere raggiunta fuori di Roma aveva bisogno delle stampe, per esempio di una stampa come questa, che sceglieva proprio in Luigi e lo sceglieva in Francia da un membro dell'Académie come l'opera di punta da rappresentare. Dunque un Bernini tradotto nei suoi valori, nel suo progetto, nel suo programma, non solo nelle sue singole opere. Tutti questi fili si intrecciano nell'episodio in cui l'atelier di Bernini diviene per l'ultima volta il teatro di un drammatico braccio di ferro con un committente e di un dialogo diretto con l'opinione pubblica europea. Una scena che fa venire in mente ciò che disse Courbet del suo celebre quadro che gli volle intitolare l'atelier del pittore, allegoria reale su una fase di sette anni della mia vita artistica e morale. È tutto il mondo che viene a farsi dipingere da me, tutti vengono a farsi dipingere da me. Naturalmente non voglio dire che Bernini anticipi Courbet. Semmai entrambi siedono su diversi e naturalmente ben distanti rami dello stesso albero, che è quello che affonda le radici nella rivoluzione di Caravaggio, perché è quello il momento in cui lo studio dell'artista diventa il soggetto centrale della discussione degli artisti pubblica, della discussione pubblica degli artisti su se stessi. È dalla Cappella Contarelli in cui la scena sacra avviene nello studio di Caravaggio riconoscibile, che parte un'altra fila, che vede la Smeninas di Velázquez, l'atelier di Fermet, l'atelier di Courbet, le damigelle da vignone di Picasso nel 1907, che è lo studio di Picasso. Lo studio di Bernini è una porta aperta sul mondo. Anche il suo studio è un'allegoria reale di una fase della sua vita e del suo lavoro. In questo caso l'ultima lunga dodici anni è che ruota intorno al colossale ritratto equestre del Ressole. È esattamente questo il concetto della vignetta di Leclerc, pubblicata da Chiuro della Chambre, modesta sul piano della qualità stilistica, assai sofisticata ed efficace sul piano concettuale. Un Bernini finalmente tradotto, se non nella forma, almeno nello spirito. Grazie. Grazie a Rettore Tommaso Montanari per questa sua lezione densissima. Per me è stata una grande scoperta. Devo dire che questa metafora della traduzione così ricorrente arricchisce al contempo tutte le riflessioni invece che sono state fatte sulla traduzione, ma pensando solo ai testi letterari. Quindi c'è veramente un momento di incontro forte che veramente andrebbe esplorato più attentamente. e questo mi ha colpito davvero molto. Oltre a tutte queste immagini che abbiamo visto e anche il traduttore di testi letterari lavora continuamente con le immagini e quindi c'è proprio un nucleo centrale in comune con questi linguaggi e sia per quanto riguarda la riflessione che per quanto riguarda l'esperienza grazie davvero e penso che se ci sono osservazioni, domande, abbiamo ancora un po' di tempo prima della pausa pranzo e di questo piccolo pranzo che possiamo ancora condividere insieme in questa sede nell'aula sotto. Offriamo un buffet per questa giornata di inaugurazione. Però ecco, abbiamo tempo per qualche domanda al rettore e per aprire un dibattito. Prego. Anna. Anna, la professoressa Baldini, prego. Vai. Scusa, aggiungo anche l'ultima cosa, che qua ci sono anche studenti e studentesse, io almeno ne ho visti qualcuno del mio primo anno, per esempio, laggiù in fondo, che ringrazio ovviamente per aver accolto l'invito. Quante sollecitazioni, cioè ci auguriamo che anche questi campi così inesplorati, non scontati, quando si parla di traduzione in questi anni, possiate così riflettere su possibili prospettive di ricerca che mi sembrano assolutamente ricche e da esplorare. Prego, Anna, la professoressa Baldini. No, grazie davvero anche da parte mia, perché mi sembra una lezione straordinaria, non solo perché appunto mette insieme in maniera non amburiana l'intertransdisciplinarità, ma ci fa veramente vedere come si possa lavorare su diversi livelli, perché il rettore ci ha presentato sia il livello della semantica storica, quindi il problema della nascita della formula dell'espressione stampa di traduzione e l'invito anche magari a studiare, problemi di relazione tra mezzi, di traduzione letterariamente parlando da questo punto di vista, e poi anche della circolazione trasnazionale delle opere, delle idee, in questo caso delle opere figurative, che passa attraverso la traduzione. È un concetto scontato ovviamente per quanto riguarda la letteratura, devo dire che non avevo mai pensato a una cosa di questo genere. Non ho propriamente una domanda, butto lì solo una suggestione. Mi chiedo perché a un certo punto hai fatto vedere l'atelier di Courbet, che sta nella copertina delle regole dell'arte di Bourdieu, in cui si parla moltissimo dell'importanza dell'alleanza tra il campo letterario e il campo figurativo, per ovviamente rafforzare l'autonomia di entrambi, si parla dell'Ottocento, però in realtà per quanto riguarda la nascita dell'autonomia della letteratura e delle arti figurative, la letteratura secondo me anche prima si può ragionare già ai tempi di Dante e dell'Ostinnovo, per le arti figurative è l'Italia e il rinascimento, il momento di consolidamento. Quindi non lo so, la suggestione che mi viene è che forse appunto l'adesione nel contesto italiano, che è il più antico che ha creato questa alleanza tra pittori, scrittori, ma soprattutto critici, la nascita della storiografia artistica, forse per quello il termine letterario si è travasato e forse si è mantenuta una fedeltà maggiore perché da noi è stato diciamo il primo. Non so, butto lì, non è una spiegazione, una suggestione. Anna, grazie mille. Sì, certamente è qua che bisogna cercare, cioè in quello scambio capillare fra parole, fra artisti della parola e artisti delle immagini che in Italia è connaturato alla nascita stessa delle due tradizioni in epoca moderna. Longhi, quando ne è proposto per una critica d'arte che continua a essere il testo più lucido in cui si schizza questa, diciamo, questa alleanza, questa difficile sorellanza che fa partire in epoca, diciamo, moderna dal punto di vista degli storici dell'arte con Dante Giotto, naturalmente, mostra bene come arrivati al Seicento il problema fosse il contrario. Cioè, da una parte, continuare ad ottenere l'alleanza dei letterati in termini di costruzione di una fama orazianamente più duratura del bronzo. Cioè, si sapeva perfettamente che, anche se con qualche difficoltà poi, perché non c'è più Ariosto che crea il canone degli artisti, in cui mette anche il giovane Michelangelo, precocissimo, Ariosto costruisce il canone che sarà di Vasari, in epoca molto precoce. Morto Marino, con cui Bernini ha un rapporto all'inizio, è molto più difficile. Bernini ha un'enorme quantità di rapporti con tutte le accademie di Roma, c'è una produzione torrenziale. Contemporaneamente c'è fortissimo il desiderio di svincolarsi, come ho provato a mostrare, di svincolarsi da un controllo umanistico, da un controllo letterario, e questo soprattutto nel filone, diciamo, che noi chiamiamo barocco, Caravaggio-Bernini. Qui si entra in una grande discussione del campo storico-artistico, barocco-classicismo. Se da parte, diciamo, del versante classico, Poussin, per un nome su tutti, c'è una, come dire, una comunione continua che riconosce un primato in fondo alla parola, invece da Caravaggio in poi c'è proprio una ribellione, come dire, leonardiana, leonardesca da questo punto di vista, e Bernini si identifica fortemente in questa parte. È qua che bisogna cercare, sì, hai ragione, cercando di chiedersi da dove si comincia. Io credo che, insomma, un'analisi, in questo servono anche le benedette banche dati, insomma, tanto inutilmente realizzate, con fiumi di quattrini pubblici. Forse in questo servono cercare... In Vasari, per esempio, non c'è. In Vasari, la metafora della traduzione, non esiste ancora, in questo senso. Quindi è qualcosa che va cercata dopo Vasari e prima di Bellori, che in quel passo mi pare, evidentemente, usarla in questo senso. E mi concentrerei non solo nella stampa, ma proprio nel disegno, nella traduzione di disegno. Io sono convinto che con un poco di sforzo si trovano le occorrenze. Cioè che sia una storia ancora tracciabile. E il Battaglia suggerisce che il tradurre sia puramente, diciamo, che sia precedente all'uso letterario che qui interessa a noi, ma che sia semplicemente il portare da una parte all'altra. Ammesso che sia distinguibile, diciamo, perché non credo che lo sia. Mi pare che il brano di Bellori che propongo per la prima volta dica il contrario. È esattamente il contrario. Cioè non è quello il posto giusto del Battaglia dove metterlo, ma meno male che l'ha messo, perché io da lì che l'ho trovato, confesso. Quindi sì, io penso che questo sia il punto. Sarei curioso di capire se si trovano, ma io anche qui sarei fiducioso, se si riuscissero a trovare delle riflessioni esplicite su che cosa voglia dire, usare questo termine. Nel Settecento francese, e poi nell'Ottocento, si sprecano i testi sul traduttore, addirittura, traduttore in poesia, traduttore in prosa, traduttore in con lo sfumato e senza sfumato, c'è un'analogia torrenziale che per esempio ora si mette in discussione preferendo l'espressione stampa di interpretazione. Il politically correct della storiografia anglosassone attuale parla di stampa di interpretazione e non di traduzione, che però è un'altra possibilità che viene fuori nell'Ottocento francese, se non viene fuori prima in Italia, perché anche questo è da vedere. Quindi in realtà c'è tantissimo da fare e sicuramente in quell'intreccio fra letterati e artisti che poi si trova sui fogli, perché come mostrato da quel carteggio viaggiavano insieme le incisioni, le poesie, tutto viaggiava insieme e negli stessi carteggi finiva sugli stessi tavoli, nelle stesse biblioteche, quindi come dire, cercando lì sono certo che qualcosa di più si trova, di più strutturato si troverà. E' proprio in questo rapporto conflittuale ma ineludibile, diciamo. Bene, altre? Prego, la professoressa Tajani e poi la professoressa Garzelli o viceversa, come preferite. Venite qui e poi anche Francesco Rossi. Sì, allora io ho una osservazione interdisciplinare, se è possibile, però devo dire che la stampa di traduzione, cioè la traduzione di un quadro, di una scultura in incisione a stampa come estratto, come dicevi tu, della quintessenza dell'opera che però rimane senza colore, mi ha ricordato tantissimo un celeberrimo passo tratto dal Quixote di Fervantes, quindi siamo proprio all'interno del siglo di oro spagnolo, quindi dell'epoca di cui tu hai parlato, in cui si descrive molto chiaramente che cosa consiste la traduzione e si dice che traduzione è come chi mira los tapices flamencos por el revés, che anche se ve las figuras hay unos hilos que las escurecen, quindi tradurre, si dice nel Quixote di Fervantes, è come guardare i tappeti fiamminghi al contrario, e quindi si vedono le figure, però ci sono dei fili che escuriscono queste figure, dunque rendono il colore molto diverso, cioè in realtà i colori non ci sono, c'è una sorta di grigio che in un certo senso ricorda un po' questo passaggio diciamo dal quadro con il colore all'incisione, alla stampa di traduzione, quindi volevo semplicemente fare riferimento a questa sorta di interdisciplinarietà fra letteratura e comunque epoche che sono molto vicine. Grazie Beatrice, è interessante perché la fortuna degli arazzi fiamminghi in Spagna è torrenziale, interessante che non citi per nulla la stampa, perché evidentemente è una cosa che matura un po' più tardi, appena dopo. Grazie. Grazie. Allora, la professoressa Tagliani, poi Pietro Cataldi e ancora qualcun altro mi sembra. E online, prima di Pietro Cataldi, Francesco Rossi, prego. Io sarò veramente brevissima, grazie per questa lezione che fra le tante altre cose ci ha ricordato il senso dell'interdisciplinarietà. Io ero molto colpita perché pur parlando di pittura, veramente in tutta la lezione venivano fuori dei nodi della traduzione, anche della traduzione letteraria, assolutamente pregnanti. e anche sul piano lessicale, per esempio, tu hai parlato al di là dell'espressione francese, d'après, che è proprio quell'espressione un po' ambigua che si usa per esempio nella traduzione intersemiotica, il passaggio dal romanzo al film. Poi hai parlato di stampa di interpretazione, di stampa derivata, una delle, l'abbiamo nella lezione con i dottoranni di qualche giorno fa, abbiamo parlato dell'autorialità derivata e non autooriginante, che è il modo in cui Lorenzo Venuti definisce i traduttori. Parlando della copia di una pittura, se ho ben capito, dicevi che serviva anche per vedere se l'opera regge, anche questo è un'espressione, ne abbiamo parlato di Antoine Berman e quindi del fatto che la traduzione, Berman ci invita a vedere se la traduzione regge, se il texte tient, lui parla della traduzione, tu invece parlavi effettivamente anche dell'originale, no? e anche di equivalenze, lo sapevo infatti che l'avevi notato anche tu e niente, quest'idea della traduzione come pittura messa in discussione dell'originale mi sembra veramente super interessante ed è un orizzonte diciamo molto contemporaneo anche del dibattito traduttologico, non so se ci sia in traduzione letteraria c'è anche la discussione dell'autorialità cioè che cos'è l'autorialità suppongo che anche il cultura sia una questione pregnante quindi e quindi volevo chiederti se appunto il sistema di copie interrogava poi anche che cosa fosse l'autore anche lì grazie mille grazie a te sì tutte cose da coltivare tra l'altro ora non c'era tempo non la volevo fare troppo lunga ma c'è una grande questione di lingua figurativa nazionale cioè immediatamente lo storico dell'arte anche se le incisioni non sono firmate esattamente come si fa con la pittura ti sa dire se conosci un po' il periodo se quella è una stampa francese una stampa tedesca una stampa spagnola e quindi c'è un doppice problema cioè il mezzo ma anche la lingua artistica nazionale per quanto sia possibile tema oggi caldissimo e complicato c'è un libro bellissimo di Nicolaus Pevner tedesco che insegna in Inghilterra tutta la vita su The Englishness of the English Art sull'inglesità dell'arte inglese mai tradotto in italiano che è uno dei pochi tentativi di affrontare il tema non da un punto di vista nazionalistico essendo inglese poi essendo un tedesco che parla dell'inglesità c'è anche questo elemento ulteriore cioè l'autorialità del singolo incisore riconoscibile riconoscibile dal mercato per cui alcuni incisori vendevano moltissimo altri molto meno ma perché per varie ragioni alcuni perché erano fedeli all'originale altri perché non lo erano per nulla in realtà si cercava qualcos'altro ma appunto erano molto più vicini al gusto della nazione in cui importavano le immagini quindi e naturalmente tutto questo discorso non può che essere intrecciato col problema delle copie pittoriche che è un altro problema al tempo di Caravaggio ancora diciamo la stampa di traduzione non ha il volume che avrà al tempo di Bernini in pochi decenni in cui esplode diciamo tutto ma per Caravaggio c'è il problema delle copie pittoriche sulla cui autorialità si discute moltissimo è possibile attribuire le copie da Caravaggio in generale quindi sono questioni che si intrecciano non c'è come dicevo all'inizio non c'è uno studio nemmeno i francesi da cui ci si potrebbe aspettare una cosa del genere non c'è uno studio recente che problematizzi tutto questo quanto potrebbe farlo quindi tutti spunti molto benvenuti allora Francesco Rossi prego Francesco ci senti? avevi alzato la mano? Sì scusate ho avuto qualche problema nell'apertura sì sono anch'io molto grato a Tommaso Montanari per la sua lezione che mette in l'unico un ambito di ricerca vivace e fecondo in particolare che si distingue dagli studi sull'ecfrasi che a loro volta sono fanno parte diciamo sono una parte importante degli studi inter artes sull'intermedialità che però rappresenta chiaramente qualcosa di diverso cioè nell'ecfrasi tradizionale si ha il passaggio dal grafico allo scrittorio diciamo qui invece mi sembra di capire che è evidente anzi che il passaggio avviene dal grafico al grafico cioè da un segno a un altro segno abbiamo una traduzione di tipo diverso diciamo non so se che non saprei se deve finire qui chiedo appunto al professor Montanari definire intramediale oppure siamo di fronte a due tipologie diverse anche perché mi sembra anche di aver capito che la funzione di questi di questi queste opere fosse una funzione incentrata sulla comunicabilità dell'opera d'altro sulla comunicazione più che sulla creazione in sé appunto trattandosi di copie di traduzioni appunto nel senso che c'è stato descritto e quindi questo aspetto le rende molto molto interessanti anche da un punto di vista appunto di un'analisi mediale non so se Tommaso Montanari è d'accordo su questo sull'aspetto comunicativo appunto oltre che naturalmente storico artistico e sì quello che è stato detto grazie no grazie assolutamente sì quel brano di Eco che prende al balzo la palla di Argan va un po' in questa direzione su questo si discute moltissimo anche proprio su che cosa sia quale sia il momento traduttivo reale poi appunto anche su questo il discorso di Evelina Borea che prova a fare delle distinzioni che io non condivido su cui c'è stata una grande discussione nelle recensioni allo specchio dell'arte italiana su che lei distingue stampa di traduzione quella dalla pittura e chiama stampa di riproduzione quella dal disegno perché poi esiste nel Settecento questa enorme produzione di disegni che vengono tradotti in stampa e in stampe che lì cercano di riprodurre il colore non il colore delle campiture ma il colore dei tratti la sanguigna con l'inchiostro rosso e in Francia queste sono fortunatissime allora bisognerebbe fare lunghe discussioni su questo il brano di Bellori mi sembra dica esattamente questo cioè che il momento della traduzione è quello della pittura al disegno non è quello dal disegno all'incisione che viene vissuto come un mezzo più meccanico cioè il punto è prendere un fatto pittorico e pur senza cambiare la materia o senza cambiare la figuratività o senza cambiare la bidimensionalità c'è una traduzione in un altro mezzo cosa che avrebbe provocato una serie di problemi avvasari a un punto di vista cinquecentesco che avrebbe riconosciuto molto con più difficoltà l'alterità del disegno della pittura arrivati al seicento e non per caso si parla di Van Dijk e di Rubens cioè di pittori comunque diciamo di ascendenza alatamente veneziana l'idea che la pittura perda sostanzialmente tutto quando la si traduca al disegno è interessante lì è la vera traduzione che questo stia ho provato a accennarlo dentro il momento in cui come dice Baldinucci il punto è che siano comunicabili a tutto il mondo e aggiunge esattamente questo come si fa a quale prezzo con quale vantaggio e soprattutto che cos'è che si vuole comunicare più ci si appiattisce sull'invenzione più si va incontro a un dominio umanistico sulla pittura e quindi diciamo perché Bellori poi le incisioni non ce le mette lui è il traduttore lui si definisce un traduttore ma con le parole paradossalmente proprio per resistere a un'idea umanistica e per andare incontro invece a quello che dice Domenichino secondo me ma su questo si discute moltissimo ancora fra storici e d'arte bene grazie abbiamo ancora due interventi e poi forse chiudiamo vediamo Pietro Cataldi e poi mi dovrà ricordare il suo nome me l'ho dimenticato mi perdoni grazie che bello sentire Tommaso anche che parla di Bernini la libertà di Tommaso per parafrasare il tuo libro su Bernini che può parlare anche di questo una piccola cosa che ora negli ultimi interventi è stata sfiorata magari sono io confuso però vorrei capire meglio se Botticelli o Doré o Blake fanno mettono in immagine dei canti o dei passaggi della commedia illustrano non traducono lì c'è un passaggio intersemiotico quindi un cambiamento radicale inventano tecnicamente anche se il soggetto di Dante sono inventores si firmerebbero in Venit perché l'immagine e la composizione è è un punto perché Dante il disegno non ce l'ha fatto capisco per questo delicato ho detto Blake non a caso certo ma già Botticelli magari Doré è più oleografico rispetto a Dante però Blake è visionario quindi se da un quadro da una tela di Raffaello di Caravaggio o perfino di Bernini si fa una copia a colori ad olio è una copia non è una traduzione no è una copia almeno per fortuna non c'è la crusca del figurativo no 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 però perché io penso ci aiuto a pensare io che ho bisogno di pensare che tu mi aiuti a fare uno scatto di pensiero se invece da una tela bidimensionale a colori ad olio si trae un disegno finita la centralità prevalenza del disegno umanistica esatto e quindi considerando la pittura una cosa più plastica più tridimensionale nella bidimensionalità per così dire perdonami a quel punto possiamo parlare di traduzione mi piace tantissimo l'idea perché di fatto si sta dicendo la stessa cosa si sta provando a dire la stessa cosa ma passando da una lingua a un'altra perché la pittura e il disegno sono due lingue in questo senso la metafora del tradurre quale la utilizziamo nei passaggi linguistici letterari tornerebbe perfettamente certo passare dal francese al tedesco dal russo all'inglese vuol dire come passare da una lingua all'altra il disegno è una lingua diversa ma dentro lo stesso codice sì esattamente cosa che un uomo della generazione o artista della generazione di Michelangelo o anche di Vasari non avrebbe capito perché il disegno padre delle arti era talmente forte che l'idea di tradurre dalla pittura al disegno era un come dire insomma era tautologico non c'era una ma nel 600 invece dopo Caravaggio che è la grande il grande iato poco riconosciuto ancora tutto sommato perché si si lega molto più volentieri all'800 e a Manet che non al 600 Caravaggio c'è una grande questione aperta ma in realtà la pittura ha una sua specificità in parte dovuta all'irrompere e poi all'egemonia della tradizione veneziana in cui dipingevano senza disegnare perché Giorgione dipingeva senza disegnare e probabilmente anche Caravaggio e poi c'è questa grande questione del rapporto con la parola e con la pagina scritta e con l'autorità degli umanisti che non viene più riconosciuta a quel punto e c'è una una colluttazione continua feconda divertente ma non è ma non c'è più riconoscimento di un primato e quindi sì esattamente esattamente questo però appunto un conto sono poi le speculazioni nostre un conto è allestire un corpus di testi abbastanza di fonti abbastanza ricco da poter argomentare intorno ai vari usi di questa metafora o comunque di questa similitudine perché questo è ancora tutto da fare ora ora vado a posto però mi ha colpito tantissimo da un puntissimo metodologico per tutti noi quando è detto si tirano fuori dagli archivi e gli archivi sono immensi tantissimi i materiali quello che si fa molto meno è interpretarli questo vale dappertutto perché è più difficile interpretare che tirar fuori le cose dagli archivi però vuol dire anche che come tu hai fatto oggi in un modo insomma che abbiamo visto tutti collegare alla storia ai personaggi ai movimenti alle tensioni di poetica interpretare è la cosa importante la parte nobile del lavoro l'altra è la parte indispensabile però il disegno è interpretare diciamo che la logica dei prodotti della ricerca della VQR appunto della quantità non aiuta esattamente ad andare in questa direzione e poi è un problema degli studi modernisti che come dire dopo un periodo in cui almeno nella storia dell'arte non c'era dubbio che il modello fosse il luogo diciamo di punta non vorrei dire di eccellenza fossero gli studi medievali o alto o manistici con una scapaucità di materiali è chiaro che un ritrovamento documentario sul 200 è un conto su 600 è un altro nel 600 bisogna selezionare e invece si tende a non farlo ma appunto publish or perish non aiuta esattamente in questa direzione abbiamo ancora un intervento prego si può venire qua sì sì grazie per questa conferenza che mi ha fatto subito sentire a casa perché io lavoro da 20 anni nel campo della traduzione di testi di storia dell'arte e il nostro problema è sempre avere davanti sia un testo ma anche l'opera e quindi tradurre solo il testo anche in senso più laterale se non coincide con quello che si vede con l'opera non ha senso detto questo chi si muove in questo campo subito pensa tipo a Macantonio Raimondi così che hanno fatto la fortuna con tutte quelle stampe secondo le pitture ora la mia idea è se in quel periodo in cui il pubblico era abituato a non vedere l'originale cioè il pubblico che stava in Germania nella Svezia Goethe ad esempio si dice che tanti suoi giudizi anche un po' forse malmenati sulla storia dell'arte era dovuto al fatto che sapeva le opere solo in stampa quanto incide l'aspettativa di un pubblico che è abituato in quel mondo diciamo del del settecento anche dell'ottocento una traduzione una stampa di traduzione non è l'originale e dalle aspettative dei lettori di oggi abituati a vedere tutte le opere d'arte sia in internet ma già prima diciamo dai anni sarebbe un argomento per la storia editoriale dagli anni sessanta settanta in poi si ha sempre più illustrazioni in colore prima erano fotografie ma anche stampe coincide sull'aspettativa del pubblico anche in confronto delle traduzioni letterarie perché la mia esperienza che il pubblico diciamo che non riflette troppo sul fatto della traduzione si aspetta semplicemente di leggere l'originale anche se nella propria lingua mentre invece noi traduttori sappiamo se al massimo arriviamo a una buona stampa di traduzione siamo felici e poi per rimanere sul discorso metaforico questo è il compito del traduttore a volte di dare il colore di dare un po' di colorito che per forza per l'altra lingua si perde ti devi inventare una cosa sua e quindi l'aspettativa del pubblico questo sarebbe il punto grazie è una domanda molto interessante intanto l'esperienza della traduzione dei testi di letteratura artistica è fondamentale in questo io per me ho lavorato molto su Bellori poi curando scrivendo la postfazione molto grande all'edizione in audio ultima dell'edizione Borea Previtali degli anni 70 è stata fondamentale l'esperienza di stare nella squadra che ha tradotto Bellori in inglese per Cambridge è stato un lavoro campale in cui io facevo la parte dello storico dell'arte italiano che doveva costantemente confrontarsi con i colleghi anglosassoni sulla vera restituzione delle parole del 600 di un lessico tecnico abbiamo già il tema per la prossima lezione esatto è stata per me un'esperienza fondamentale di anni felici in cui si poteva io potevo studiare 24 ore al giorno e però lì è venuta fuori la questione enorme delle stampe per esempio perché spesso ci siamo chiesti ma Bellori qui cosa vede esattamente il logo comune che spesso lavorasse sulle stampe in realtà abbiamo dimostrato che certo le cose che non sono a Roma le cose di Anversa di Rubens le vede sulle stampe e a volte si può dimostrare specialmente quando le stampe non hanno raddrizzato la destra e la sinistra con il processo calcografico allora lì sei sicuro se inverte tutto che sta guardando una stampa l'orizzonte di attesa diciamo cambia ma cambiava anche nel 600 dipendeva molto da chi perché queste stampe se uno va a vedere il mercato delle stampe è molto interessante vedere gli inventari morte chi è che aveva le stampe in casa gli umanisti gli artisti Bernini in un passato quando viene un architetto svedese Nicodemus Tessin gli dice e gli chiede insomma come tutti i ragazzi che arrivano a Bernini gli chiedevano al grande uomo come si fa e lui tra le altre cose che dice dice bisogna guardare molte stampe per inventare stampe di traduzione di opera del passato bisogna guardarle con occhiali colorati messi a testa in giù salendo su una scala e guardandole in basso Bernini si divertiva anche un po' prenderli in giro ma c'era qualcosa di vero cioè allora l'orizzonte di attesa per chi? per gli artisti per i letterati per i collezionisti che volevano capire cosa comprare cioè a un certo punto c'è un problema di corpus si comincia quando l'Italia si comincia a svuotare tutti i monsuo i milordi cominciano a comprarsi tonnellate di cara di tiziano di veronese cominciano a chiedere sì sì ma quante ce ne sono e comincia l'idea di dover avere un corpus cioè posso avere un corpus cartaceo di tiziano con le stampe perché perché non mi basta la descrizione voglio capire qual è perché potrei potermene comprare uno e vorrei capire quindi dipende da chi sono cose che vengono usate in modo molto diverso noi abbiamo i cataloghi delle calcografie spesso in cui abbiamo tutte le stampe con i loro prezzi messi in vendita piazza Ravona nel centro era il mercato delle stampe a Roma sappiamo i nomi dei negozianti sappiamo quanto costavano poi ci sono i rami cioè le matrici che vengono comprate rilavorate alla calcografia nazionale il palazzo della fontana di Trevi se ne conservano moltissime e si continuano a trovare sul mercato fondi rimasti poi abbandonati nell'ottocento di botteghe seicentesche di stampe dove le vediamo alterate biffate per evitare che si ristampino c'è una come dire una storia sociale della stampa che in parte è stata fatta in parte è da fare straordinariamente interessante per capire chi veramente le comprava e perché e naturalmente c'erano aspettative sguardi completamente diversi oggi è vero che diciamo con Google e con le restituzioni della Gioconda in milioni di pixel in cui tu puoi vedere tutto però paradossalmente siccome da una parte la visione diretta delle opere dei musei è quasi impossibile cioè la Gioconda nessuno di noi l'ha vista veramente nella vita si comincia a tornare all'idea professionalmente non solo che le fotografie in bianco e nero da una parte la scelta di Federico Zeri con la grande fototeca in bianco e nero che è tutta consultabile a Bologna l'Università di Bologna e addirittura la stampa di Calamatta con cui ho iniziato sulla Gioconda che piaceva tanto a Gior San è uno degli saggi critici più importanti sulla Gioconda perché c'è una lettura di un pazzo che per 20 anni Calamatta era un personaggio meraviglioso che detestava la fotografia c'è una sola fotografia in camicia rossa Garibaldina ma aveva aveva capito che riuscire a dire a dire come dice lui lo sfumato di Leonardo nel tratto dell'incisione era un lavoro di una vita ci mette 20 anni a fare questa incisione se si vede quell'incisione si capiscono delle cose della Gioconda di Mona Lisa che non si capiscono dall'originale cioè sono testi critici a tutti gli effetti e traduzioni esattamente come dalle traduzioni si capiscono cose che non si capiscono del traduttore ma forse anche dell'autore quindi in realtà diciamo è una domanda fondamentale per ieri e per oggi ancora una volta forse vale sia per le parole che per le figure bene facciamo ancora un applauso al rettore Temazio Montanari grazie mille la pausa pranzo ci rivediamo poi alle 14.30 grazie grazie a tutti